Formarsi e informarsi per essere pronti in un improvviso momento di necessità, ma anche per prendere confidenza con una patologia diffusissima, ma ancora succube nel 2024, dello stigma della paura e dei pregiudizi. Aice, Puglia e Lice scendono in campo ancora una volta per accorciare le distanze tra coloro che convivono con l'epilessia e il resto di una società che ancora fatica a prendere confidenza con un disturbo che coinvolge l'1% della popolazione. Sapere cosa fare, ma soprattutto cosa evitare quando ci si imbatte in una crisi epilettica è fondamentale. Allora, sicuramente quello che non è da fare è inserire qualche cosa in bocca. Perché per evitare il cosiddetto morsus? Perché il morsus è dovuto alla contrazione tonica dei muscoli che interessano quindi anche mandibola e mascella. E nel momento in cui si tenta di aprire la bocca si può solo creare potenzialmente un danno al paziente, lussazione o frattura dei denti o farsi anche male. Lo spiega bene la dottoressa Angela Laneve, responsabile del centro epilessia dell'unità operativa complessa di neurofisiopatologia del Policlinico di Bari. E allora l'appuntamento è per domenica 11 febbraio nella tesoreria di Palazzo di Città, dove sarà allestito il villaggio Epilessia, un luogo di incontro e informazione tra cittadini ed esperti. Dalle 10 alle 13 infatti i medici si metteranno a disposizione per rispondere a tutte le domande. Il villaggio è all'interno delle manifestazioni fatte per la giornata mondiale dell'epilessia, che ogni anno si celebra il secondo lunedì febbraio, organizzato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per il bisogno di rilanciare l'attenzione sulla corretta informazione e sulla capacità di saper intervenire in caso di crisi epilettiche. E il prossimo 12 febbraio la fontana di Piazza Moro e la torre del Palazzo della città metropolitana si illumineranno di viola, lo stesso colore scelto per la panchina del lungomare per sensibilizzare sul tema, grazie al QR code che permetterà, inquadrandolo, di accedere a tutte le informazioni utili. Un tema di cui si parla ancora troppo poco e che, se non trattato correttamente, può seriamente compromettere, sia a livello fisico che sociale, la vita di chi convive con la patologia. Intervenuta alla conferenza stampa, anche la Presidente della Commissione Pari Opportunità, Silvia Russo Frattasi. Si parla ancora troppo poco del motivo per cui, purtroppo, sia i genitori, le famiglie, sia i bambini, già in tenerissima età, vengono poi ancora discriminati. Una madre, un padre e soprattutto le mamme, purtroppo ancora oggi, genitori di un figlio con epilessia, sono costretti a lasciare il lavoro, Grazie a tutti.